Edizione straordinaria, cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Vi metto una tabella in questo video sul mio canale YouTube, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, molti di voi, io mi metto anch'io fino a ieri, non erano al corrente di quello che succede se il Milan si qualifica. Qualcuno dirà, sì, aspetta che si qualifichi e io rispondo, non voglio pensare che il Milan contro Bruges, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava, Girona e Dinamo Zagabria non porti a casa i punti almeno per arrivare in tabella nono decimo undicesimo dodicesimo e nono decimo undicesimo e dodicesimo se la Mem Shows è la stessa cosa e dopo vi spiego perché. Non voglio pensarlo, già l'anno scorso qualcuno temeva, amici miei, la mia figuraccia quando mi sembra che fosse il Reno, forse lo Slavia, ho detto siamo già i quarti perché non posso pensare che il nostro grande Milan, che chi ha rivisto, il mio collega ha rivisto la partita contro il Bayer, ha ribadito che è uscito, anche lui rivedendola due volte, si è lasciato andare a un meritavamo abbondantemente il Parigi ed è quello che io dico abbiamo giocato una bella partita, una partita dura 90 minuti, loro non hanno giocato bene gli ultimi 35, noi non abbiamo giocato bene i primi 35 e in mezzo è venuto il gol loro, ma purtroppo è venuto il gol loro, ma poco altro. Quindi prima di buttarci nel campionato divertitevi a fare dei calcoli e beh a me personalmente è sempre piaciuto. Allora ecco che vi mostriamo questa tabella presa direttamente, è stato il mio collega Luca Bianchini che ha avuto questa intuizione, allora che cosa succede? Seguitemi bene, sappiamo che le prime otto passano a marzo, mentre febbraio ci sono le due partite per arrivare appunto agli ottari. Allora che cosa succede? Ci sono delle estrazioni pur essendoci il calendario, il tabellone scusate, il tabellone tennistico e voi l'avete davanti. Allora succede che la diciassette, già non bisogna esserci un sorteggio, la diciassette o la diciotto giocano contro la quindici o la sedici. Quindi di quelle quattro la diciassette gioca contro la quindici e la sedici. La vincente, la vincente di queste partite, cioè il diciassette che gioca contro la quindici e la quindici e la quindici contro la sedici, la vincente va ad affrontare la uno o la due e così la ventitré, ventiquattro affronta la nonna o la decima e affronta la settima o l'ottava. La ventunesima, la ventiduesima piazzata affronta l'undicesima o la dodicesima, seguite la tabella, e affronta la quinta la sesta la diciannovesima ventesima che deve giocare con la tredici o la quattordici affronta la terza la ventesima la diciannovesima vedete la tabella quattordici tredici affronta la o la terza o la quarta e poi la ventidue ventuno affronta la dodici o la undici affronta la sesta ventiquattro venticinque diecinove affronta la la ottava e poi diciotto diciassette sedici o quindici affronta la prima o la seconda l'avete visto quindi la tabella è piuttosto chiara quindi è molto bello perché c'è questa sfida e per questo dicevo la situazione l'ideale per noi sarebbe arrivare secondo me undicesimi o dodicesimi perché affronti la settima l'ottava poi la settima l'ottava magari è real madrid però in teoria la prima la seconda è meglio evitarla quindi nona decima undicesima dodicesima sarebbe la posizione ideale se non riusciamo ad arrivare fra le prime otto quindi questa è la tabella mentre la leggevo vi è rimasta sempre davanti così avete capito poi dopo il tabellone tennistico e beh dopo è tutto chiaro perché dopo si va come a tennis tu superi un avversario sai già che devi affrontare il vincente di un'altra sfida quindi questa è la tabella della champions league adesso vederci trentaduesimi mi sembra è una cosa che ci intristisce però è come se fosse una lunga sosta di campionato dove tu hai iniziato male hai voglia e dura per quasi un mese per tre settimane e però signori il tempo passa in fretta incominciamo ed ecco che voi giustamente mi dite a vincere a firenze non è facile però riuscire non so quante volte il milano è riuscito dalla tra le due soste a vincere quattro partite dovremmo quindi venezia inter lecce e speriamo fiorentina beh incominciamo subito a raddrizzare le cose anche perché c'è sempre questa lo sapete già purtroppo forse perché io leggo i commenti questa tendenza subito al nichilismo al nichilismo che viene dal ve lo ricordate nihil latino nihil vuol dire niente il nichilismo subito il negativismo spaziale perché non nonostante una bella partita chiaro che poi sei dietro in classifica e la cosa ti può diciamo irritare ti può amareggiare ti può intristire però la prestazione è sempre in crescita il milan che ha giocato col venezia poi un disastro totale come il live contro il liverpool poi miracolosamente il milan si è ritrovato o senza miracoli saggiamente ha messo con morata e abram ed è un milan lo diceva ieri di di ma mettili ancora che li trovi impreparati li trovi impreparati loro perché hanno già studiato ad un appunto in più li puoi li puoi diciamo puoi sconvolgere i loro piani tattici in difesa e non è stato così ha preferito ha preferito fonseca mettere un altro giocatore perché non era non mettere morata ma togliere abram perché abram sembrava come vi ho detto più di una volta non stare benissimo contro la fiorentina io credo che il milan cambierà emerson con calabria che noi adesso c'è sempre il diciamo tra calabria emerson e un tiro al bersaglio speriamo che i due hanno ragione anche chi tira al bersaglio speriamo che i due facciano sì che non si tiri più al bersaglio giocano bene diventano decisivi giocano bene e non sono più il bersaglio dei tifosi anche perché adesso c'è come vi ho già detto il light motive calulù sapessi quanto è un continuo calulù non è stato mai apprezzato come ne io non ricordo dei commenti su calulù in questi ultimi mesi anche perché è stato infortunato adesso improvvisamente è un giocatore indispensabile al mondo e certo anch'io vi ho già detto ieri non non l'avrei ceduto non l'avrei ceduto non voleva chiariamo non voleva essere ceduto e ci ha messo un po a essere convinto adesso sta rispondendo bene perché è un ragazzo serio ripeto vi faccio una promessa la prima volta che abbiamo e la possibilità di un'intervista pubblica oa oa ibraimovic a proposito oggi il suo compleanno tanti auguri ibra oppure a moncadà oppure a furlani chiederemo quali siano state le strategie le riflessioni per cedere calulù almeno lo sappiamo e ve lo prometto e ve lo prometto che farò rivolgerò questa domanda perché è una domanda che non c'è bisogno che debba far promesse interessa anche a me mi dicano il motivo però sapete io subito mi polgo la mia attenzione non a quelli che sono da altre squadre ma su quelli della mia squadra e quindi mi auguro che emerson o calabria crescano ancora e non facciano sempre pensare al buon e bravo calulù per quello che riguarda tomori anche lui e sono io che dico che tomori in questo momento non è feroce come vorrei in area non è feroce come vorrei in area il gol subito anche se annullato non mi interessa se annullato o no è venuto un cross e lui mi ha buccato il pallone forse andrà pavlovici su su in difesa di fianco a gabbia là davanti io penso che non cambi nulla io penso che ci sarà raenders fofanà pulisic leao e i due abram morata con la speranza però che morata però incomincia adesso giocarmi partita dietro partita perché non incominciano essere troppe le assenze di un giocatore che quando entra fa cambiare subito la partita la borsite vi assicuro è un fastidio un'infiammazione noiosa quindi speriamo non ci debba giocare su però in quanto siamo alla vigilia della sosta è chiesto a tutti di strappare di stringere i denti e riuscire a entrare in squadra anche se non si è al massimo al cento per cento cari amiche cari amici vi ho mostrato la tabella che ci può interessare che ci può interessare pensare positivo quando vi ho detto i rassegnati stiano a casa quando vi ho detto il 33 per cento non è bisogna pensare positivo bisogna tirarsela addosso la positività non scacciarla e quindi studiate la tabella magari screenshotatela fate un bello screenshot e anche io farò così perché così ci divertiamo a studiare l'importante che incominciamo però a divertirci e a segnare e vincere e portare a casa le partite contro il Bruges che ieri per esempio ha battuto lo Sturgraz non è uno scontro da titani però bisogno di quella partita ma siamo già e già siamo siamo già avvezzi a queste partite del dentro fuori in Champions League un saluto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.